benvenuti alla diciannovesima giornata di campionato seconda categoria cadore limana nel neutro di codi sago per problemi di campo il cadore in formazione rimaneggiata limana tenta invece di difendere il primato dalle inseguitrici però a far girare il cadore la palla palla laterale interviene toffoli che lascia di prima di sinistra vedana vedano subito di sinistra dell'area c'è un calcio d'angolo per limana sempre pericolosa la formazione a zero blu parte da rold sul secondo palo triches di testa bellissimo il gol che sblocca la partita secondo tempo grande calcio d'angoli da rold colpo di testa bellissima sponda vediamo di triches tormen si coordina benissimo di severo vesciata fulmina portiere un grandissimo gol veramente per il giovane difensore limanese che porta in vantaggio il limana vediamo qui giustamente festeggiato dai compagni un gol veramente importantissimo sbaglia l'intervento da rold parte riva un gol incredibile riva anticipa da rold sulla rimessa laterale fa cadere il pallone un rimbalzo non guarda neanche la porta fa partire un destro che nulla può di nadai 11 bellissimo il pareggio di riva prova limana a partire per riguantare il vantaggio triches palla dentro per un volto fuori sono portiere bellissimo ancora occasione incredibile non ce la fa ma limana 11 ma limana sempre in testa grazie a tutti